come si gestisce un portafoglio critto ben ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi andiamo a parlare di strategie strategie di investimento strategie e di gestione di un portafoglio di strumenti finanziari in questo caso ovviamente delle cripto valute in tanti questa settimana cioè la scorza cioè quella del crash avete iniziato a dare i numeri perché moltissimi avevano dei portafogli di al coin critto valute si sono ritrovati con delle minusvalenze importanti nell'arco di pochissimo tempo e allora tutta questa pomo tutta questa fase di iper up sui mercati tutto questi sogni di gloria to the moon ogni giorno svaniti nell'arco di poche ore resta la domanda il dubbio cosa fare adesso in questo video andiamo ad analizzare quali sono i punti che bisogna applicare in una strategia di gestione di portafoglio semplificata chiaramente perché non potremo andare a trattare delle strategie complesse di edging di copertura ragazzi in un video del genere perché ci sono anche quelle però già queste piccole tips e queste piccoli trucchetti vi daranno grandissima fluidità e soprattutto un attimo di focalizzazione su quello che è il vostro rischio il rischio del vostro portafoglio del vostro investimento così poi potete decidere in maniera assolutamente autonoma se detenere quel tipo di rischio all'interno del vostro investimento oppure ridurlo con qualche altra strategia ma prima di andare avanti iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un super pollice per questi video se no semplicemente non li faccio più ho deciso così ragazzi se non mi lasciate due milioni di polli se non vi lasciate almeno mille mi piace non faccio più video di questo tipo sono minaccia va bene ok ragazzi allora ho pronto un esempio sul grafico di eth per farvi capire questi punti che tratteremo oggi però intanto partiamo dalla questione della scelta strategica ragazzi quando fate e create un portafoglio di strumenti finanziari in questo caso di cripto la cosa più importante è avere chiaro l'orizzonte temporale del vostro investimento c'è un problema che è un problema di natura comportamentale oggettiva di quello che la nostra mente ci dice nel momento in cui decidete il vostro orizzonte temporale il vostro grado di rischio siamo tutti influenzati dal trend di uno strumento finanziario questo significa in parole povere che se lo strumento in questione sta salendo e fa numeri più 10 più 15 più 20 più 30 la nostra propensione al rischio è la nostra percezione del rischio muta cambia e diventa più leggera noi abbiamo meno sensazione del pericolo perciò diciamo non li ci metto il 50 per cento del mio patrimonio poi dopo una settimana come quella che abbiamo appena visto meno 50 meno 60 allora allerta via tutti i pungiglioni alzati perché incominciamo a pensare no ma è rischiosissimo no io qui sono il 5 ok ragazza quando decidete la strategia è il vostro orizzonte temporale prima di comprare uno strumento finanziario decidetelo prima va bene ragazzi la strategia va decisa prima quando decidete il vostro orizzonte temporale si parte tutti dall'idea di dire lungo periodo perché il lungo periodo ha una fallacità ragazzi cioè non è psicologicamente controllabile per un'idea umana diciamo nel lungo periodo andrà bene ok perché semplicemente ci scrolliamo di dosso il problema questo è il discorso ci scrolliamo di di dosso il problema e quindi abbiamo l'idea di dire lungo periodo perché crediamo in una cosa crediamo in opera delle cripto si usa sempre dire lungo periodo perché credo che questo progetto potrà apportare che è un'affermazione assolutamente corretta perché un progetto tecnologico e il mercato cripto in primis è un mercato di cambiamento del dello status quo ragazzi quindi quello è veramente giusto pensare in quel modo ma non fa poi bisogna ricordare non sappiamo se quella cosa veramente capiterà e soprattutto dobbiamo accostare a questa view il concetto che in un mercato del genere c'è un mercato che mira a cambiare lo status quo non semplicemente una nuova azienda che crea profitto faccio il calcolo utile per azione quanto il boom il team come funzione bravi non bravi i prodotti allora quella è un'altra logica ragazzi una logica di fare investimenti basandoci sugli earnings dell'azienda gli utili futuri eccetera invece in un mercato come cripto c'è una logica strutturale cioè di investire come degli angels in dei progetti che possono effettivamente cambiare lo status quo nei prossimi decenni questo è una cosa completamente diversa quindi dovete anche capire che questo tipo di investimento è mille volte più rischioso di quell'altro però ha mille volte la possibilità di dare dei gain e di cambiare la vita degli investitori questo è il grande sogno del mercato cripto cavalcato da tantissimi ragazzi ed è successo a tantissime persone ed è questo però un po quel nodo che ci dice ok io investo nel lungo periodo perché credo in questo sogno però ragazzi ricordatevi che alla fine in quel lungo periodo arriveranno pochi progetti di quelli che vediamo oggi non tanti il secondo me più dell 80 90 per cento tra 80 e 90 fallirà ragazzi quindi ricordatevi questa cosa per avere l'idea mentale che quando decide del vostro orizzonte temporale siete anche in una probabilità piccola che becchiamo la giusto il giusto progetto che poi il mercato applicherà in futuro ovviamente noi ci proviamo del giusto fare così però ricordatevi questa cosa quindi strategia è il lungo periodo scegliere orizzonte alcuni di voi diranno ma io nel lungo periodo cioè fra quattro mesi lungo periodo ragazzi nei mercati e da 5 a 10 anni ok ve lo ripeto lungo periodo per i mercati e da 5 a 10 anni per i mercati delle cripto se proprio vogliamo essere un pochettino più veloci avendo una volatilità molto più elevata dei mercati classici il lungo periodo può essere indicato tra 3 e 5 anni ok inizia da lì ragazzi ma poi va avanti vengo periodo anche 20 anni va bene quindi se voi ragionate in una strategia di ottica di lungo periodo cosa succede una settimana è completamente irrilevante perciò il concetto è mi assumo un rischio di questo tipo e ora ve lo faccio vedere ragazzi come cambiano le questioni cosa può succedere a chi assume una posizione di lungo periodo in maniera poco precisa ragazzi sul fatto che magari non ha il concetto del cosiddetto rischio allora ragazzi quello che questo in questo caso abbiamo ethereum contro usd di binance grafico settimanale vi faccio capire quando nella 2017 tra l'altro binance questo non è proprio un gran grafico di eth perché semplicemente non ha uno storico molto molto lungo vediamo altri che hanno storici più lunghi per capire questa questa questione ragazze nel momento in cui vado ad assumere la mia posizione di lungo periodo per esempio su ethereum nella dopo questo pump che era avvenuto nel 2016 allora a questo punto qui nel break del marzo 2017 io dico che investo e entro anche molto bene ragazzi va bene perché magari entro su questa fase di pump dopodiché il mercato va a questo massimo fin qui tutto bene ogni swing è stato ricomprato dal mercato ma poi alla scoppio della bolla inverte il trend di medio periodo medio lungo periodo e scende per un anno e mezzo dopodiché nonostante abbia fatto un minimo qui continua a lateralizzare per circa due anni un annetto e mezzo ancora una volta qui ragazzi ok quindi la questione è legata a questo chi è entrato in questo punto su eth per esempio ragazzi ok si è trovato a essere sballottato con un profitto abnorme magari del 500 per cento per poi averlo perso totalmente poi pensava di recuperare poi l'ha riperso poi pensava di recuperare poi arrivati il covid allora questa è la realtà quando immaginate dite il lungo periodo io il lungo periodo dovete immaginarvi queste sensazioni storiche allora voi entrate su un strumento finanziario e dite ok io lungo periodo bellissimo allora mi accollo quello che sono tutte queste oscillazioni questo è un esempio sul mercato cripto ma possiamo fare migliaia sul mercato di old perché hanno più storico per esempio no e quindi c'è la bolla del petrolio lo scoppio della crisi dell'iraq lo scoppio della del voto della grecia e con la fisica del debito in europa allora ogni periodo ha la sua struttura quando voi ragionate sul lungo periodo vi accollate tutta quella che è la volatilità storica del mondo cioè tutto quello che può succedere nel bene e nel male questa cosa la dovete accettare perciò nel momento in cui voi avete fatto un investimento con un orizzonte temporale del lungo periodo non potete andare a dire però poi perdo il 60 per cento una settimana e però adesso nel lungo periodo cosa devo fare non devi fare niente però dovevi pensarla all'inizio però vedremo adesso la regola del trend ragazzi ok questo è di concetto questa cosa è di concetto quindi quando voi decidete l'investimento la prima cosa che dovete fare è decidere l'orizzonte temporale del vostro investimento e poi proiettarvi dentro quell'orizzonte temporale e dire ok ma questo orizzonte temporale a cosa mi espone cioè perché se normalmente si annebbia ragazzi facciamo finta che vediamo le cose poi non le vediamo sì ok il mercato possede all'infinito ma la più grande probabilità è che il mercato oscilli come abbiamo visto qui cioè faccio questo tipo di situazioni alterni nel lungo periodo situazioni di bear market situazioni di mercato toro bull e tutte quelle che sono i vari e lo mask twitter a destra twitter a sinistra e cina della questione ok quindi in un contesto lungo c'è anche il rischio di assumersi tutto quello che succede nell'ambito della lunghezza appunto del lungo periodo nel bene e nel male dov'è che saremo cosiddetti salvi ragazzi siamo salvi nel momento in cui noi siamo entrati in questa fase per esempio su e th e poi il lungo periodo è andato bene quindi tutto quello che nel lungo periodo ci ha dato soddisfazioni e dopo una prima fase di gran casino chiamiamola così a un certo punto noi ci troviamo qui quindi anche se il mercato inizia oscillare magari a fare la stessa cosa noi siamo entrati comprando a 30 dollari perciò la nostra cosa cambia ragazzi ovviamente lì dobbiamo ragionare poi sui profitti sul nostro sono suggestione dei profitti però la percezione tra lungo periodo e volatilità dovete averla chiara nella vostra mente ok come gettire un capitale e che abbiamo diciamo delineato abbiamo dedicato a lungo periodo e durante le fasi appunto di volatilità allora ragazzi se volete sapere cosa sta succedendo sul mercato dovete utilizzare la regola del trend che cos'è la regola del trend andare a vedere che trend a quel mercato quello strumento finanziario nel medio periodo questa cosa vi aiuta a comprendere dov'è posizionato la vostra il vostro investimento e cosa farà probabilmente nei prossimi mesi il trend ragazzi è il miglior amico dell'investitore trend is your friend questo l'ho sempre detto dall'inizio del mio canale sono tre anni che dico questa frase ragazzi ed è la stessa cosa per quanto riguarda gli investitori di lungo periodo se avete un dubbio e volete dire ma in questa fase per da qui ai prossimi mesi dov'è posizionato il mio investimento che trend fa il mercato allora basta applicare la regola del trend capire il trend di medio periodo vi spiego è facilissimo da fare quindi basta un indicatore di media mobile oppure semplicemente per quelli che gli piace magari guardare proprio i prezzi come me a guardare due tre andamenti e lo capite alla perfezione se il trend dello strumento finanziario che voi avete in portafoglio nel medio periodo è al ribasso o laterale ribassista è inutile che pensate che fra due mesi quello strumento sarà superiore si può sempre invertire il trend però sostanzialmente ragazzi i trend hanno una determinata lunghezza per esempio un trend di breve periodo dura qualche settimana un trend di medio periodo può durare qualche mese un trend di lungo periodo dura anni va bene e questo lo possiamo vedere per sempre anche su e th ragazzi il trend di lungo periodo e th è ovviamente rialzista perché è un trend che se voi andate a vedere i minimi questa è la regola del trend ragazzi sono tutti più alti sono sempre tutti alti ovviamente un trend di lungo periodo dovete guardarlo o su time frame weekly o su time frame monthly non potete guardarlo sul daily o su altri tipi di time frame perché la questione diciamo è completamente senza senza senso quindi metto l'altro grafico che questo un po lavorato ok allora nel momento in cui io voglio capire dove si trova il mio investimento in questo preciso momento su e th ragazzi in questo preciso momento su e th il vostro investimento si trova in una correzione di breve periodo perché ha fatto una e due settimane rosse e oggi sta questa settimana sta tentando un leggero recupero allora è ancora in trend di rialzista di medio e lungo periodo perché quando cambia il trend di medio cambia nel momento in cui il mercato andrà sotto questo minimo o questo qui quindi i mille e sei più o meno toccati qui è arrivato a scorsa settimana mille e sette qualcosa su binance se il mercato inverte cioè scende sotto i veri minimi visto che alle medie già sono qui ragazzi farà una cosa del genere è probabilmente invertirà il trend nel medio periodo questo non significa che nel lungo non possa ritornare a salire ma significa che nel medio periodo questo strumento finanziario probabilmente scende o fa lateralità fintanto che non inverte un trend di medio periodo per un'inversione di un trend di medio periodo ci vuole tempo ragazzi ok quindi se avete in portafoglio delle alt coin che hanno fatto l'inversione del trend nel medio periodo ricordatevi che avete degli strumenti che con buona probabilità continueranno o a scendere o a restare in barra di congestione tra gli ultimi massimi e questi minimi che hanno fatto quindi in questo caso per esempio e th potrebbe restare in una buona fetta del suo tempo in questa struttura di prezzo cioè tra i 1.200 e i 4000 dollari allora voi dite ok mamma mia che ampio oscillazione ma queste sono le cripto e se abbiamo il concetto che questo è un mercato di lungo periodo che può dare grandi soddisfazioni dovete abbracciare anche questo tipo di volatilità in questo modo avrete consapevolezza di dove vi trovate con il vostro investimento per concludere un piccolo tips è un mio consiglio ragazzi allora quando decidete come gestire le vostre cripto valute è un portafoglio di di cripto ragazzi dovete pensare a tutte queste fasi quindi se sono tutte cripto valuta e tutti investimenti che avete posizionato per il lungo periodo potrete incorrere in fasi prolungate anche che durano mesi se non anche qualche anno di ribassi oppure lateralità cioè dove il mercato praticamente non fa assolutamente nulla per tanto tempo nell'attesa eventuale di un nuovo bull market ok in questo caso ragazzi non vi sto dicendo che domani le cripto scendono è questo l'intenzione di questo video vi sto dicendo come gestire le vostre cripto valute in generale questo vale sempre ragazzi ok io stesso penso che poi il mercato bull tra le cripto dopo i primi di giugno potrebbe riprendere ok quindi lo vedremo nel prossimo però questo è legato all'attuale momento quindi non c'entra con quello che vi sto dicendo c'è però una regola che io vi consiglio di utilizzare e magari riflettere su questa regola nel momento in cui andate a utilizzare le cripto valute per il vostro investimento dividete il rischio cioè dividete le strategie se fate una strategia a lungo periodo fatela solo con strumenti un po' più solidi magari non andate a ragionare con altcoin troppo piccole che sono anche soggette a oscillazioni importanti sia nel bene che nel male ragazzi o meglio andate a dividere il vostro patrimonio su strumenti come bitcoin ethereum magari o alternative di ethereum che possono avere più stabilità anche nelle fasi laterali ribassiste oppure ancora meglio dividete proprio le strategie e andate a utilizzare il lungo periodo per alcuni investimenti ragazzi ok e il medio periodo per altri oppure semplicemente dividete la posizione magari prendendo profitto nei momenti in una parte diciamo nel box del vostro investimento nel momento in cui cambia il trend di breve periodo e dito ok esco riduca un po la volatilità di quello strumento vendendone magari il 20 per cento oppure fate il famoso free roll se avete guadagnato tantissimo uscita magari col capitale di ciò che il capitale ma non porto a casa perché magari il trend è cambiato e nei prossimi mesi probabilmente lateralizza o scende in questo caso vi ho appena detto che il trend di eth ancora non è cambiato nel medio periodo ha fatto una correzione di breve nel breve sì nel medio no ok e nel momento in cui decidete di fare questa cosa vi riducete il rischio progettate una torta ragazzi con diverse strategie non vi focalizzate su mille altcoin ho visto portafogli di mille altcoin variegate non serve a niente ragazzi ok decidete alcuni progetti importanti come appunto bitcoin ethereum che hanno dimostrato resilienza nell'arco del tempo su quelli concentrate il vostro grosso patrimonio e poi andate a definire qualche chicca magari qualche magic della situazione qualche solana che magari vi fa il boom contro questi due strumenti tre strumenti se volete usare anche quelle top five diciamo dodge esclusione top five del mercato cripto e poi aggiungete qualche piccola piccolo strumento che magari può avere una piccola capitalizzazione che magari avete studiato il progetto vi piace è meno rischioso utilizzare un piccolissimo pezzo del vostro capitale su progetti emergenti che possono fare veramente bei numeri piuttosto che andare a spalmare il vostro capitale su 12 20 coin tra le top 100 perché non serve a niente ragazzi perché quelle sono correlate e viaggiano da sole va bene la stessa cosa poi uno un giorno sale più di et e poi il giorno dopo sale per non cambia niente va bene e rischiate ancora di più perché state rischiando tutto il patrimonio quindi prendetene dei pezzettini e andate a cercare le famose gemme critto ok però il grosso gestitelo magari con strategie di lungo periodo su altcoin e cripto valute che abbiano dimostrato nel tempo resilienza abbiano progetti già maturi davanti a loro ragazzi già utilizzati già adottati va bene non solo paper quindi questa è importante non dividete il vostro patrimonio troppo perché la diversificazione nei settori nei mercati cripto non è un proprio così precisa così semplice da fare ragazzi va bene perché molti sono correlati quindi utilizzate la tecnica di mettere il capitale in progetti solidi e poi un piccolo pezzo magari a fare il boom boom se vi va bene se vi va male perdete pochissimo ok e quindi su progetti diciamo che magari hanno grande possibili possibilità grandi potenzialità di rialzo se poi volete essere un pochettino superiore superiore nella camera superiore andate a diversificare anche le strategie per gli strumenti non investendo solo nel lungo periodo aggiungete anche medio e breve perché nel lungo periodo quando il lungo periodo si ferma magari per due tre anni le operazioni di investimento di breve e medio periodo danno grandi risultati e vi fanno stare sul pezzo con più tranquillità anche se il mercato magari scende va bene fatemi sapere come gestite voi il vostro portafoglio se questi consigli e questi tips vi sono stati utili ciao a tutti ragazzi alla prossima